Adesso noi vogliamo farvi vedere un altro video, ma per farlo chiamiamo Fabrizio Floriani, che è un dirigente della FIAIP, io adesso non so dove è posizionato. Eccolo. Presidente provinciale di Piacenza, è anche vicepresidente del nostro Consiglio Nazionale, che tra l'altro si riunirà domani. Eccolo. Piacentino come il Presidente sforza. Grazie di questo applauso preliminare. No, l'avevate già fatto. Ma un supplemento fa sempre piacere. Ma spero che da bravi agenti immobiliari FIAIP arrivino fino al rogito. Preliminare l'abbiamo fatto. Quando più di vent'anni fa io mi associai a questa federazione, avevo, credo, ben chiaro cosa chiedere ad un'associazione rappresentativa e non erano semplicemente degli strumenti di lavoro legislativamente più accurati, più efficienti, a minor costo. Volevo qualcosa di più. Un'associazione che rappresentasse il mio stile di lavoro, anche un po' il mio stile di vita, doveva darmi qualcosa di più. Non cercavo quello che oggi antropologicamente definiremo un non luogo, una specie di supermercato dove incontrare delle persone, pescare delle occasioni favorevoli, senza contatto. Io cercavo il contatto, la discussione, cercavo il confronto, cercavo la contaminazione, cercavo di crescere professionalmente e volevo farlo anche correndo rischio di essere contaminato. Non accettavo né la violenza di certe reti di vendita sul cliente e neanche la violenza del sistema, peggiore, sull'agente immobiliare, considerato una figura parassitaria, di scarsa utilità sociale, un elemento marginale nella vendita, in una vendita immobiliare. Non veniva percepito il valore aggiunto dell'agente immobiliare, la sua professionalità. Pensate quante volte abbiamo sentito frasi di tipo ma questa casa si vende da sola, che bisognava dell'agenzia. Oppure, certo che voi agenti immobiliari ne sapete contare su di cose. Ecco, questo non mi rappresentava. Io cercavo un tetto da condividere con dei colleghi, ma anche un simbolo da metterci sopra. Io ho avuto l'onore di avere la stessa professoressa di Greco, dell'Avvocato Sforza Fogliani, che era la professoressa Calderini, su un ballo, unire, simbolo, mettere assieme. Peraltro ho l'onore di condividere la città con l'Avvocato Sforza Fogliani, per cui spero non mi arrivi mai un intero urbano. E questa unione, io cercavo un'unione forte, un'unione nell'ambito di un organismo che fosse qualcosa di più della semplice somma dei suoi componenti, il valore aggiunto. Ora, se mi chiedete se l'ho trovato in FIAIP, ovvio, sono qua adesso a parlarvi, sarei semplicemente un frescone che viene qua a contarvela su come l'agente immobiliare, come veniva percepito. Anch'io ho un po' di emozione. Grazie. Ho vissuto questi 25 anni di FIAIP, io anagraficamente non 40, è una questione anagrafica, li porto male, vedendo crescere una federazione, vedendo una federazione che è cresciuta non tanto e non solo nei numeri, ma è cresciuta in qualità, in professionalità. Abbiamo vissuto momenti di grande euforia, momenti di dramma, commedia e tragedia, sempre assieme, recitando un ruolo da protagonisti con i nostri alleati, con Fedilizia e tutti gli altri nostri alleati. recitando, lo ribadisco, un ruolo da protagonisti e scoprendo il gusto di recitare assieme, perché assieme si recita meglio. Grazie. Allora, però forse anche un video, no? Allora, da Italo Calvino vi leggo due righe, dal Barone Rampante, che è una trilogia che fa parte della mia formazione anche. Le associazioni rendono l'uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone. Danno la gioia, che raramente sa, restando per proprio conto, di vedere quanta gente c'è, onesta e brava, e capace, per cui vale la pena di volere cose buone. Mentre, vivendo per conto proprio, capita più spesso il contrario, di vedere l'altra faccia della gente, quella per cui bisogna sempre tenere mano alla guardia della spada. Grazie.